Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo video andremo a prendere il trofeo prendi. Colpisci tre nemici usando una sola mina rotolante. La mina rotolante è un nemico che incontriamo sin dalle primissime ore di gioco. C'è anche la spiegazione che li possiamo prendere e lanciare anche perché se no non riusciremo a superare la diga durante la storia. Quindi il primo esempio di mina lanciata lo faremo per forza di cose con tanto di tutorial. Io vi porterò questa volta nelle caverne di Ponkin per prendere il trofeo perché è qui che l'ho preso io. In realtà mine rotolante con tanti nemici ne troviamo in giro per il gioco ma io l'ho preso qui. Vi porto qui in quanto tutte le volte i nemici ci saranno sempre qui perché ho visto che altre volte ci sono sulla mappa ma se poi tornate lì trovate altri nemici. Invece qui ogni volta che tornate troverete gli stessi nemici e oltre a questo bisogna passare di qui ai fini del platino perché c'è proprio il trofeo della caverna. Quindi vi porto in un posto dove dovete comunque arrivare se volete il platino. Eccoci all'interno della caverna. Qui c'è anche un punto di meditazione molto vicino che andiamo subito a prenderlo. eccolo qua. Siamo all'interno delle caverne di Ponkin e il punto di salvataggio è comodo perché se non riuscite a prendere il trofeo al primo tentativo tanto vale ricaricare e ripartite oppure vi riposate e i nemici respawneranno di nuovo. Bene ci siamo quasi. Mi dispiace per quanto bisogna andare lontano però almeno funziona. Allora i nemici sono qui subito sulla destra ed è qui che ho preso il trofeo. potete fare con molta calma. Entrate qui dentro. Tanto non scoppiano subito. Prima di diventare rossa prendete la mina e la lanciate e il trofeo sarà vostro. Ed eccoci arrivati alla fine del video ragazzi. Spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Grazie a tutti per la visione e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.